Musica Prima di iniziare con il video vi ricordo che ho creato un nuovo canale su Telegram Dove troverete ovviamente i link in descrizione da questo video Niente il canale verrà utilizzato solamente come spam per pubblicità dei miei video e news riguardanti i modi di GTA 5 online Quindi niente se avete Telegram l'avete scaricato nel mostro cellulare vi lascio il link in descrizione Mi raccomando ragazzi entrate dobbiamo assolutamente arrivare intorno ai 3.000 membri Detto questo nulla io non vi rubo altro tempo vi lascio al video Buona visione Salve a tutti ragazzi benvenuti e bentornati qui nel mio canale Io sono Griggs oggi ragazzi sono qui finalmente sui miei ritornato con un nuovo glitch su GTA 5 online Come è stato YouTube spero tutto bene e insomma ragazzi oggi sono qui dove vi andrò a mostrare un glitch abbastanza particolare Infatti come avete dato al titolo ragazzi questo è un glitch che vi permetterà di praticamente spinnare Ossia far girare la ruota fortunata del casino praticamente all'infinito Questo glitch principalmente a cosa serve? Beh come sapete tutti il casino ha la funzione di ogni settimana in pratica inserire un veicolo sul podio Ebbene se voi siete fortunati riuscirete girando la ruota della fortuna appunto a vincere il veicolo del podio Ebbene questo glitch vi servirà principalmente a fare questo come anche insomma vincere tanti altri premi Che appunto possiamo diciamo ottenere girando la ruota della fortuna C'è chi può fare questo glitch magari per ottenere delle fish Chi appunto per ottenere il veicolo del podio E insomma ragazzi è un glitch abbastanza semplice anche diciamo un glitch abbastanza carino Di per sé non è un glitch diciamo che più un tips and trick Ossia un trucchetto che appunto potete utilizzare Però insomma volevo condividere questa cosa con voi quindi spero possiate apprezzare Quindi niente ragazzi prima di iniziare sapete già cosa fare Mi raccomando lasciate il vostro mitico bel poli johnson in su Che a me fa veramente tanto piacere Inoltre mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti Attivando la campanellina che trovate accanto al numero degli iscritti E vi ricordo soprattutto di seguirmi su telegram nel mio nuovo canale appunto gruppo telegram Come anche di seguirmi su instagram Infine vi ricordo che se vi servono account moddati, account glitchati Oppure servizi di recovery per pc Dove su pc verrete aggiunti con soldi, rango, proprietà, corsa, capriole e chi più ne ha più ne metta Appunto potete contattarmi ad uno dei contatti che troverete in descrizione Inoltre vi ricordo che sono disponibili account già pronti per ps4 Quindi insomma come funziona in parole povere Voi fate il pagamento in base all'account scelto E una volta fatto ciò vi manderò i dati per poter entrare nell'account Poi ovviamente dovrete andare a cambiare i dati Ci sono account che hanno full deluxo Quindi tutte le proprietà sono piene di deluxo da vendere Altri account che hanno delle issi fatti con duplicazione massiva Quindi insomma ragazzi mi raccomando comprate anche perché il mercato è fermo Quindi vorrei far appunto riprendere il mercato Link ovviamente in descrizione Detto questo possiamo subito iniziare a bomba con il video Non ci serviranno requisiti per fare questo glitch E inoltre vi anticipo che questo glitch funziona solamente o almeno credo Su ps4 In quanto questo glitch in pratica si svolge che se voi andate a fare appunto questo glitch E la ruota fortunata non vi darà il premio che avete desiderato Vi basterà semplicemente chiudere l'applicazione Quindi questo diciamo che è il succo del video Non so se tecnicamente funziona anche su pc o su xbox one Comunque credo di sì perché anche su xbox one si può chiudere l'applicazione In ogni caso io andrò a spiegare ovviamente per ps4 Quindi ragazzi spero possiate apprezzare Detto questo possiamo subito iniziare a bomba con il video La prima cosa da fare ragazzi sarà entrare su gta 5 online In una sessione solo ad invito E una volta ragazzi che sarete entrati all'interno della sessione solo ad invito Quello che dovrete fare per prima cosa sarà recarvi al casino E una volta che vi sarete recati nelle vicinanze del casino Dovrete semplicemente impostare il logo di rientro su ultima posizione Questo logo di rientro vi servirà praticamente ad accorciare i tempi per fare questo glitch In quanto avendo il logo di rientro impostato su ultima posizione nelle vicinanze del casino Quando andrete a rientrare online Se ovviamente non andrete a vincere il premio tra virgolette desiderato Se la ruota fortunata non vi darà il premio Voi andate a chiudere l'applicazione Quando la riandate ad aprire e riandrete nuovamente su gta online Appunto vi ritroverete nei pressi del casino Quindi risparmierete molto tempo tra magari un logo di rientro in un garage Che poi dovete prendere un veicolo Recarvi al casino eccetera 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 Quindi come avete visto dal video ragazzi Semplicemente impostare il logo di rientro su ultima posizione E una volta aver impostato il logo di rientro Semplicemente andate a cambiare uno stile o un accessorio al vostro personaggio O comunque potete anche sfruttare un trucchetto Che si svolge in andare su internet Andare sul sito leggendario motorsport E andare a comprare una LG RH8 E la mettete in una proprietà In questo caso appunto il gioco farà un salvataggio forzato Una volta aver fatto questo procedimento Semplicemente come avete visto dal video Tenete premuta la freccetta direzionale in basso del vostro joystick E selezionate un personaggio della storia Per tornare su gta modalità storia Una volta che sarete entrati all'interno della modalità storia Semplicemente premete il tasto option su ps4 Andate su online Gioco a gta online Sessione solo ad invito E appunto lasciate caricare una sessione solo ad invito di gta online Una volta fatto ciò Come vedete il logo di rientro sarà appunto Praticamente il più vicino possibile all'entrata del casino E questo come già detto Vi servirà a risparmiare molto tempo Per appunto fare il glitch Una volta aver fatto questo Diciamo step base Quindi uno step di preparazione Allora potrete semplicemente iniziare Per prima cosa quello che dovrete fare sarà entrare all'interno del casino Dovrete appunto aspettare l'animazione Che il gioco vi farà entrare all'interno del casino Una volta ragazzi che sarete entrati all'interno del casino Tutto quello che dovrete fare per svolgere il glitch Dovrete semplicemente recarvi dove c'è appunto la ruota fortunata del casino Quindi dovrete appunto fare finta tra virgolette Di giocare alla ruota fortunata Quindi quando vi sarete avvicinate alla ruota fortunata Semplicemente premete la freccia destra Per appunto giocare tra virgolette alla ruota fortunata Aspettate che il personaggio metterà appunto le mani sulla ruota fortunata E una volta fatto ciò Quando il gioco vi dirà di premere la levetta Per appunto girare la ruota fortunata Voi dovrete effettuare questo movimento Che avete visto nel video con il vostro joystick Ora attenzione qui Una volta che avrete iniziato a girare Dovete praticamente aspettare Finché la ruota non si andrà tra virgolette quasi a fermare Che cosa intendo con quasi a fermare? Intendo che praticamente mentre la ruota sta girando Come state vedendo da questa clip rallentata Dovrete tenere premuto il tasto PS Per far comparire il menu rapido In questo caso su PS4 E una volta che avrete aperto il menu rapido Dovrete semplicemente posizionarvi su chiudi applicazione Mi raccomando ragazzi questo step è molto importante Chiaramente dovrete avere la possibilità di girare la ruota fortunata Altrimenti non potrete appunto fare questo glitch Ebbene come si svolge adesso Voi stando posizionati sulla spunta chiudi applicazione Dovrete aspettare finché la ruota fortunata non si andrà quasi a fermare Se la ruota fortunata in questo caso vi darà il premio che state cercando Quindi non lo so Se volete le fish e la ruota fortunata non si andrà a fermare sulle fish Ebbene dovrete effettuare questo step Lo stesso discorso vale per il veicolo del podio Quindi per vincere il veicolo del podio E così via Vale per gli RP Per le t-shirt E insomma potete fare questo glitch In base al premio che state desiderando Appunto se la ruota fortunata non vi dà il premio che state desiderando Poco prima che la ruota si andrà a fermare Come avete visto dal video Semplicemente tenete premuto appunto il menu rapido Chiudi applicazione E andate a spammare Quindi premere tante volte il tasto X Per chiudere l'applicazione molto velocemente Una volta fatto ciò vi ritroverete nella dashboard di PS4 In questo caso quindi nella home E quello che dovrete fare sarà semplicemente Riaprire l'applicazione di GTA 5 Quindi lasciate caricare ovviamente la storia E tutte le schermate che si hanno appunto Quando appunto avviate l'applicazione di GTA 5 Rientrate in una nuova sessione solo Ad invitare di GTA Online E andate a ripetere appunto il passaggio Quindi come vedete Entrando nuovamente in GTA Online Vi ritroverete nei pressi del casino Grazie al logo di rientro impostato E questo appunto vi aiuterà a risparmiare molto tempo Quindi per ripetere il glitch Se in questo caso non abbiamo vinto Tra virgolette il premio desiderato Quindi rientrare nel casino Recarci di nuovo alla ruota fortunata Una volta fatto ciò Premere freccia destra Che come vedete ragazzi Potremo nuovamente girare la ruota fortunata Quindi vuol dire che avremo eseguito Questo passaggio tra virgolette correttamente Quindi se abbiamo chiuso l'applicazione in tempo Allora potremo nuovamente ricirare la ruota della fortuna E possiamo fare questo glitch tutte le volte che vogliamo Perché appunto non andiamo a perdere Diciamo la possibilità di girare la ruota fortunata Che come sapete si può girare una volta ogni 24 ore di vita reale Quindi una volta al giorno potete appunto girare la ruota fortunata Quindi per ripetere il glitch Semplicemente premete freccia destra Riandate a girare la ruota fortunata Mentre la ruota sta girando Tenete premuto il tasto PS E vi andate a posizionare ragazzi Su chiudo applicazione Come prima a questo punto se la ruota fortunata Non vi andrà a dare il premio da voi desiderato Allora poco prima che la ruota si andrà a fermare Andate semplicemente a chiudere l'applicazione Invece ovviamente in questo caso Se la ruota fortunata vi darà il premio da voi desiderato Che possono essere ripeto le fish Il veicolo del podio eccetera Allora non vi servirà a chiudere l'applicazione Questo trick come vedete serve principalmente A non perdere il giro fortunato Tra virgolette che come sapete Come già detto si può fare solamente una volta al giorno Della ruota fortunata Quindi vi servirà principalmente A appunto non perdere il giro Quindi vi servirà a vincere il veicolo del podio Se volete vincere il veicolo del podio Vi servirà a guadagnare fish Se volete guadagnare delle fish Magari da risparmiare Per un prossimo futuro glitch delle fish Insomma E come sarebbe detto dal video ragazzi Il glitch è veramente molto molto semplice Vi recata la ruota fortunata Premete freccia destra Girate la ruota Mentre la ruota sta girando Vi posizionate con il tasto ps Sulla spunta chiudi applicazione E se la ruota fortunata Non vi darà il Diciamo Veicolo del podio Comunque non vi darà il premio Da voi desiderato Allora vi basterà semplicemente Chiudere l'applicazione E continuare a fare questo passaggio Finché appunto Non andrete a vincere Il premio desiderato Detto questo ragazzi Che dire Nulla Questo glitch Si conclude qua Io spero ragazzi Avete apprezzato Glitch abbastanza semplice Anche se non è un glitch È più un trick Che appunto potete utilizzare Lo so che molti youtuber Ci hanno già postato il video Comunque mancava la mia versione Ed è giusto Che io ci pubblichi il video Io spero ragazzi Avete apprezzato Se così è stato Mi raccomando Lasciate il vostro mitico Bell pollicionsons in su Che a me fa veramente Tanto piacere Fatemi vedere Che anche durante Queste vacanze estive Siete ancora su youtube A supportare lo zio Krix Vi ricordo di seguirmi Su telegram Instagram e facebook Di cui anche questi Troverete il link in descrizione Inoltre vi ricordo Che se vi servono Recovery per pc Quindi account moddati Per pc e account moddati Per ps4 Con deluxo Altri con issi Altri con corsa Altri con pittore Insomma Troverete tutti quanti Il link in descrizione Il mercato ragazzi Come vi ripeto È fermo Quindi cerchiamo di far Appunto riprendere il mercato Anche perché sono senza una lira Ma vabbè Non diciamolo in giro E nulla Io spero ragazzi Abbiate apprezzato Qua da Krix È tutto Io vi saluto Vi ringrazio Noi ci si becca ragazzi Come al saluto Con un prossimo video Prossima live Un prossimo glitch Bella Ciao Ciao